ciao bimbi e ciao bimbi farina di riso farina di riso? si nella ricetta di oggi c'è questa allora lanciamo la sigla sigla ciao bimbi e ciao bimbi io sono Alicia Dominici io sono Dario Dominici e dietro la telecamera c'è la zia oggi andiamo a fare uno slime di una vostra ricetta la scurola sarà bellissima come la zia il primo ingrediente che andiamo a mettere dentro il nostro MC medio sarà il Vidal il sapone per le mani l'hai detto cento volte lo so però tanto la città io lo metto una spruzzata come mi metto il sapone Dario ma lo hai messo tutto fuori io faccio cosa mi pare è il mio MC medio il prossimo ingrediente che mettiamo in questo MC meglio sarà il NELSEN color color blu una spruzzata una spruzzata una bolla scappata una bolla scappata siamo arrivati al terzo ingrediente non è l'ultimo ce ne saranno ancora tanti e voi rimanete con noi il prossimo ingrediente sarà la NELSEN no per l'occasione utilizzeremo questa una spruzzata adesso il prossimo ingrediente dobbiamo shakerare quindi è la panna shaker 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 a few moments later da questa parte si di aiuto il mio lombricco ora lo rishaker shaker 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 vado alice perderà a questo punto non dovete ancora mescolare esatto e dobbiamo andare ad aggiungere l'ingrediente peggiore del mondo il dentifricio perchè il peggiore perchè qualche volta lo slime con il dentifricio non funziona io lo metto io lo metto io anche io lo metto e ne mettiamo pochissimo Dario aia cos'è potete usare qualunque macca e via di incaglia later se sei arrivato fino a questo punto se sei arrivato fino a questo punto e non l'hai ancora fatto in tal caso molto male io vi consiglio di iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdervi nessun video di lasciare tantissimi like di lasciare tantissimi like stai zitta te non lo devi dire di lasciare tantissimi like adesso dobbiamo aggiungere il colorante però ho già scelto il blu io ho scelto il blu che bella fantasia che abbiamo tutto blu shaker 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 per colpa della zia non si stava registrando quindi abbiamo messo il colorante io avevo fatto una scena dove si poteva mettere tururi tururu tarari tu 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 perché non andava e Dario nel frattempo era riuscita anche a mangiarselo il colorante però non vedrete mai niente perché la zia non ha messo orecchia comunque abbiamo messo il colorante e adesso andremo a mescolare un po' pannoso e il mio è più bello eppure a mettere gli stessi ingredienti abbiamo ottenuto slime diversi il mio è più bello zia? no più belli tutte e due quello di Alice è solo quello di panna e basta mi dà un fluffy quello di Alice mi sa proprio di sì io ho deciso il nome del mio slime mare blu anche io l'ho deciso cielo blu no cielo blu eeeh cielo azzurro ma va bene nemmeno questo nome acqua blu no bene allora chiamino a Mario ok ora finalmente andremo ad aggiungere il ciccio corno zia ruolo di Samburi e anche oggi per noi solo per noi entra lui il ciccio corno 2.0 vai zia che è la poverina matata magica di bosco di nuove di ricci vestiti di fragoline profumata della raccoglie del giardino delle fate che volano con la polvere stellata gritterata di unicorni rosa con maleni colorati non è niente non è molto incantare chiamata anche S stellina stellina eeeh 2.0 avevo questo sporco pantaloni no vado no 1 2 3 4 5 ok ora vado io 1 2 3 4 5 e andiamo a girare e praticamente non è successo niente nemmeno a me ma voi non vi preoccupate dovete ascoltare i miei consigli il prossimo ingrediente ci risolverà la vita non è il fuffi che siete abituati a vedere ma è il fuffi di riso che io non sapevo nemmeno che esistesse metto io vabbè Daniel comincia a mettere ora vado io arrivata questa consistenza io mi vado ad aiutare con le mani anche io vado con le mani visto che siamo un po' impastecciati dobbiamo andarci a fare di aiutare la zia quindi ci rivedremo a slime completato 15 minuti siete pronti a vederlo? eccolo è molto morbido ci ha un po' aiutato la zia si potrebbe anche essere finito ma no perchè nella ricettina ci dice di mettere per fin il pongo il pongo? eh si proprio il pongo Dario quindi zia dacci il pongo dai ecco zia ecco ecco anch'io vai andiamo ad aprirlo eh io eh io bello bello il mio è più bello più che gioco più che la consistenza cambia ed è diventato veramente più morbido e il risultato che stiamo ottenendo è questo molto bello molto bello sei arrivato fino a questo punto del video vi aspetto giù nei commenti con hashtag be color il mio è quasi anche cambiato colore anche il mio un pochino il mio da celestino a verde il mio blu a verde acqua ma mi sembra più un tiffany no verde acqua tiffany verde acqua tiffany quindi anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video se il video vi è piaciuto lasciateci tantissimi like vi mandiamo un grande bacio a tutti e dico a tutti e dico anche proprio anche a te che stai guardando questo video e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Ciao!